ciao a tutti ragazzi benvenuti al live in cui voglio comunicare con te voglio condividere con te cosa sta succedendo in queste ultime ore di fermento abbiamo lanciato da poco lo liners conference che ha un messaggio molto forte voglio parlartene in questo live tranquillo in cui avrò anche uno special guest una persona che ci accompagna ogni giorno nell'avventura dell'aiutare le persone a migliorare la propria vita svegliarsi a tirare fuori i cosiddetti e andare là fuori a prenderti quello che ti meriti se invece sei un depresso un triste chiudi la diretta come ti dico sempre e comunque so che non lo sei perché sei sulla mia pagina siamo in due gruppi contemporaneamente vado a vedere se tutto ok apro una diretta a caso ci sono allora ragazzi facciamo una cosa per combattere questa ingiustizia di facebook taggate cinque persone condividete mettete like a caso in modo che l'audience possa salire so che ultimamente siamo abbastanza intensi con la quantità di dirette che mandiamo in onda ma questo non vuol dire che non sia forte il messaggio non ci siano delle novità proprio ieri alle ore 22 è stato aperto un gruppo incredibile chiamato all inners la cultura del non mollare mai un gruppo in cui tante persone possono ricevere un supporto possono ricevere un supporto nel percorso verso il proprio obiettivo e quello che succede come dico sempre è che le persone lasciano perdere rispetto a un obiettivo che parlo di gente che ha un obiettivo che si dà un un target che sta lavorando per mandare là fuori il proprio prodotto lanciare la propria azienda o semplicemente vuole l'aiuto degli altri per evitare di sentirsi solo lasciar perdere quindi vediamo chi si collega qui c'è già gente carichissima c'è anche gente che è a Roma perché in realtà fra un'ora abbiamo ovviamente non sono io l'ospite speciale se sei a Roma aspettando che arrivi non posso ancora teletrasportarmi però ci saranno altre due persone speciali quindi alle otto di sera in questo preaperitivo in questo preaperitivo ti voglio raccontare un po' cosa sta succedendo andremo anche a condividere lo schermo non so se si vede fluido confermatemi dall'allergia si vede fluido ok perfetto 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 quindi dico alcuni dicono che sono a Roma se sei sulla mia pagina allora puoi condividere fuori se invece sei nei due gruppi probabilmente puoi solo taggare persone se sei nella mia pagina condividi questo live perché ti andremo a spiegare cos'è l'allinners conference che abbiamo lanciato ieri sera cos'è il gruppo che è nato ieri sera non sarò io a darti le mie opinioni ma ci sarà anche una persona speciale che ti presento fra poco nel frattempo vado anche a vedere se è tutto ok da altre parti vi do il benvenuto tutti prendiamo tempo dai facebook crea questa audience manda quella notifica lì fuori per favore mark dai mark su è che ti faccio fare i soldi mark dai mark ok allora continuiamo vado a vedere vado a vedere un po nella mia pagina mark metti le dirette a pagamento in modo che ti possa tirare i pacchi di cash grazie ok perfetto intanto saluto giampiero daniela riccardo angelo elisa giacomo e tutte le persone che lo stanno vedendo di cosa parliamo questa sera parliamo di cosa è successo ieri sera con l'ancio di questa conferenza e del gruppo che abbiamo aperto intervisterò anche martina mangano che è la nostra il nostro punto di riferimento nel movimento femminile di marketing genius dove aiutiamo tante in realtà aiuta lei io non sono ancora donna aiuta tante persone tante donne che hanno un'idea che vogliono materializzare un progetto a iniziare il percorso a partire ed è per questo che questa sera in questa precena è qui che scalpita dietro le quinte pronta ad entrare con uno stile clamoroso sicuramente migliore del mio visto che mi sono messo la prima polo che trovavo grandissimo se mi seguo in diretta nella mia pagina grazie per essere qui allora allora matteo pittaluga non c'è perché dove sarà mai sarà a roma quindi non può tenere questa diretta saluto anche a fabrizio ambrogio e tutte le persone che si stanno collegando grazie facebook che ha sentito la mia richiesta vado nell'altro gruppo vedere se c'è qualcuno perfetto ok grande 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 gente da bologna gente da napoli gente da roma gente da tutte le parti ok ragazzi iniziamo allora ieri sera è stata lanciata all'all inners conference che è l'evento che sarà il 28 29 30 settembre a cervia questo evento in questo evento si parlerà di digital marketing saranno presenti un sacco di ospiti da tutto il mondo gente che sa fare le cose e ti spiega come farle è la prima all inners conference e si chiama così perché ieri abbiamo appunto lanciato la cultura degli all inners l'all inners è una persona che vuole di più e vuole essere nel percorso con tante altre persone vuol dire che magari tu adesso sei solo sei in un lavoro che ti fa schifo mai paura di lasciarlo per partire fare qualcosa di diverso allora adesso hai un punto di riferimento perché ci sono tante altre persone che sono nella tua stessa situazione che vogliono fare questo viaggio insieme ad altri questo non vuol dire che gli altri faranno le cose per te ma in qualche modo hai un punto di riferimento quindi 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 invito qui con me la mitica martina mangano eccola qua stilosissima questo microfono da san rima ma va benissimo fabio ciao a tutti un bacio a tutti all inners come state fateci sapere nei nei commenti grazie fabio per avermi invitata e insomma ragazzi siamo qua a presentarvi la non solo la all inner conference ma soprattutto il movimento ok perfetto 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 devastante e quindi in realtà marketing genius è nato quando è nato nel 2000 nel 2016 poi nel 2017 ha aperto il movimento vuol dire che ha accolto tante persone gratuitamente imparare digital marketing ma questo non era abbastanza perché ci sono persone che molte volte non si buttano a studiare digital marketing perché prima di tutto non si capisce manco che cosa vuol dire cosa vuol dire digital marketing cioè cosa sembra una parolaccia sembra tipo che sembra che ti mando affari in in realtà digital marketing è un modo per buttare la tua voce là fuori fare pubblicità e competere con le grandi aziende perché alla fine tu non puoi competere su rai 1 canale 5 italia 1 non puoi competere lì e quindi il marketing digitale ovvero il farti trovare dalle persone che cercano il tuo prodotto e servizio è il modo per te di esporti quindi la mia idea in realtà un anno fa in febbraio era quella di creare un movimento di imprenditori digitali però imprenditore è una parola che fa paura cosa ne pensi io penso che io penso che allora imprenditore è una parola che fa paura perché in realtà tutti sappiamo cosa significa essere imprenditori però purtroppo fino ad oggi moltissime persone non sono imprenditori e ci sono anche moltissimi imprenditori che non sono capaci di fare gli imprenditori perché in realtà non hanno avuto mai gli strumenti e diciamo la il gruppo no la l'aiuto di altre persone per arrivare veramente a essere imprenditori imprenditori per noi non significa avere successo dopo un secondo ma significa semplicemente non mollare mai ok per questo stiamo creando questa grande cultura del degli all inners che per noi significa proprio non mollare mai ok andare all in per noi per noi non è semplicemente lasciare indietro tutte le cose che ci hanno frenato fino ad oggi ma significa soprattutto non mollare mai questo per noi essere un imprenditore quindi per assurdo ci sono imprenditori che devono ancora iniziare il loro percorso non sanno di esserlo esatto e che in realtà sono già imprenditori sono già all inners anche se magari poi non sono neanche marketing genius ancora non sanno di esserlo non ci hanno ancora conosciuti non vi hanno ancora conosciuto perché la cultura e tutta la community la fate soprattutto voi e quindi per me imprenditore significa significa questo sono sicura che Fabio è d'accordo con me esatto e quindi alla fine visto che io idee complesse tutti quelli che mi circondano lo sanno cioè ho le visioni ma a volte ne sono incapibili sei d'accordo esattamente lui lui è la parte come vi posso dire vaneggiante del del progetto quindi l'anno scorso quando io sono ho iniziato a lavorare con Matteo per creare qualcosa di più di un semplice corso perché alla fine marketing genius per chi chiede cos'è è un corso un corso di marketing digitale dove tu impari a cliccare i tasti giusti per evitare di sputtanarti troppi soldi nella pubblicità online magari tu hai visto su facebook gente che fa pubblicità come fai ad evitare di farla male beh impari in un corso quindi marketing genius è un corso rimane un corso e tutti i prodotti dentro marketing genius sono corsi che ti specializzano in un certo in un certo settore abbiamo i corsi di e-commerce i corsi di affiliate marketing ma non li tengono persone che non hanno mai fatto risultati li tengono persone che vivono di quello e questo è molto importante quindi la mia idea era quella di creare un movimento di imprenditori digitali ha funzionato in un certo senso sì perché siamo stati molto forti a creare questo movimento che adesso ha più di 16 mila persone però le persone diciamoci la verità se io ti dicessi martina dai studiati sta roba tu cosa mi dici a cosa mi serve esatto esatto quindi fino quando tu non capisci il perché devi fare un determinato percorso fino quando tu non capisci che è possibile utilizzare quell'idea che avevi nel cassetto allora non parti è come uno che dice voglio come se io ti vendo una canoa ma tu non sai che andare in canoa in mezzo al mare fa bene cioè nel senso ti ringiovanisce oppure stai meglio con te stesso stai più libero sono un esempio orripilante il peggiore esempio devo farti è come se io ti vendo una roba che tu non te ne fai niente perché tu stesso credi che non ti serva io penso che tutti i corsi che ci sono i marketing genius siano corsi che aiutano le persone concretamente no però qual è il nostro però noi sappiamo io poi lavoro personalmente dietro le quinte di marketing genius dietro tutto quello che è il supporto e le vendite e vi garantisco che ci sono molte persone che da una parte magari guardano i primi video del corso semplicemente perché hanno già risultati così allora noi siamo contentissimi dall'altra parte però ci sono delle persone che non completano neanche i corsi no e allora ci siamo chiesti cos'è che manca a queste persone no perché la parte pratica c'è perché i corsi ci sono e quella è una parte pratica veramente enorme già solo con il corso l'in che per noi è la bibbia ovviamente diamo già degli strumenti che sono già top ok sono già il top ovviamente una persona che fa un corso l'in lo svolgere il completo e mette già in pratica tutte le cose che ci sono nel corso l'in già è il top però qual è il problema che molte persone non finiscono i corsi e non mettono in pratica tutto no e allora ci siamo detti perché perché probabilmente non hanno un perché e perché probabilmente si sentono soli perché comprare un corso molte volte non è sufficiente per esplodere e per essere come vi dicevo prima dei veri e propri imprenditori molte volte ci vuole il supporto di una community di persone che stanno già vivendo che hanno già vissuto scusate il lo stesso percorso e di persone che stanno vivendo assieme a voi lo stesso percorso quindi non vi sentiate soli perché vi garantisco che già moltissime persone come noi come voi esatto è come dire quello che succede anche a chi sbaglia il corso di laurea cioè se tu sbagli un corso di laurea ti fa schifo quello che studi cosa che succede al 90 per cento degli studenti perché sono obbligati a scegliere roba a caso in fretta giusto invece in australia ad esempio ti danno un anno sabato e dico dai viaggia liberati la mente poi scegli dove andare quello è devastante però nessuno lo fa perché vogliono raccogliere più soldi possibili prima in modo che poi non molli l'idea di fare l'università tutto vabbè un magheggio vario non siamo contro l'istituzionalità perché siamo tutti laureati qua ma c'è qualcosa c'è un business dietro ok tutto è un business se tu pensi che la gente ti aiuti per caso allora vivi nel mondo dei sogni e puoi unirti al movimento di hippie che girano scalzi che non è male cioè alla fine noi viviamo io viviamo Ibiza è il paradiso degli hippie cioè sono tutti felici contenti ma la realtà è che gli hippie sono pieni di cash sono ex businessmen ritirati che si sono rotti le balle dello sclero nella vita di tutti i giorni che poi vivono così a caso vabbè comunque a parte questo vaneggio che non c'entrava niente non c'entrava niente però ti dà un po' l'idea l'importante è dare un po' di sì così darti un po' di esempi quello che succede è che quando tu capisci che quell'idea che hai nel cassetto che quello che ti hanno detto che non era possibile per te è possibile allora hai bisogno di strumenti ed è per questa ragione che poi è lì pronto marketing genius che è la casa sul web per tutte le persone che vogliono imparare la roba pratica però dimenticandoci della casa sul web delle robe pratiche dei corsi è stato è nato appunto il concetto l'inner che non è nato ieri perché ieri è stato lanciato è nato in settembre l'anno scorso quando abbiamo deciso di stampare un braccialetto rosso che praticamente è nel polso di tutti quelli che l'hanno ricevuto che aveva un messaggio forte che è quello di di non mollare mai cioè qualsiasi cosa tu faccia non devi per forza essere un nerd col cappuccio e studiare marketing digitale era un messaggio generale che è stato dato da noi perché perché pensavamo che la gente avesse bisogno di questo e quello che è successo è clamoroso perché poi nessuno si è più tolto questo braccialetto nell'ultimo evento ancora più persone hanno ricevuto un altro braccialetto questa volta nero e quello che succede io pensavo allora nella community la gente ci conosce quindi questo messaggio magari lo accettano perché sanno un po' quello che c'è detto andiamo a provare a dare questo braccialetto a qualcuno che non ne ha idea di cosa vuol dire quindi nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto a Dubai io e Matteo che ho raccontato già questa storia abbiamo incontrato una ragazza che lavora lì che ha avviato la sua carriera da avvocato a Dubai e lei ha l'ambizione di creare la sua agenzia e poi aiutare tutti gli italiani che vanno lì per capirci qualcosa in mezzo alla roba in arabo incapibile da destra a sinistra lei è un all-inner all-inner vuol dire una persona che ha deciso quello che vuole non sa come ci arriverà ma ci arriverà e quindi io mi sono strappato il braccialetto rosso questo è un altro non è il mio originale che me l'ho messo un anno fa glielo ho dato a lei che se l'è messo fino qua ok quello è piccolo e non fatevi ingannare questo è quello grande se io adesso te lo do tu te lo metti nel bicipite e lei se l'è messo nel bicipite poi mi chiama e mi fa guarda non me lo sono ancora tolto perché? perché ogni volta che mi veniva la mia idea in mente lei adesso fa la consulente per una grande azienda però la sua idea il suo obiettivo non è quello cioè lei non vuole avere la vita chiave in mano non vuole essere arrivata lei voleva e vuole ancora questa cosa questo braccialetto gli ha dato quel messaggio continuo e molta gente ci ha chiesto ma me lo puoi vendere quel braccialetto? la risposta è no l'unico modo di ricevere questo braccialetto è venire a un All Inners Conference perché qui incontri la gente che è nel percorso ok? la gente che è nel percorso vi faccio la solita illustrazione che non so ah grande mi apro un altro la gente che è nel percorso ci sono tre tipi di persone ridisegno gli omini soliti questa è un'illuminazione che mi è venuta ieri questa è la gente con la vita chiave in mano in cui potresti esserci pure tu qui c'è il sole solito quello brutto proprio qui c'è il barato col mare in cui puoi lanciarti e fare un tuffo e qui ci sei tu perché se stai seguendo questa diretta allora vuol dire che mi segui vuol dire che segui quello che abbiamo da dire e vuol dire che so che tu sei lì però questo non vuol dire che tu non fossi qua anzi lo disegno in un altro colore lo disegno rosso, cattivissimo tu eri questo con la doppia testa rossa nera tu eri questo e se non ci fosse stato qualcuno che ti diceva vieni qua tu rimanevi qua a berti la birra con gli amici e a lamentarti che la tua vita è una merda invece tu sai che puoi arrivare qua e questo gruppo se tu non sei da solo perché se sei da solo torni indietro ed è provato che il 96% della gente che parte per un'impresa imprenditoriale che imprenditoriale vuol dire che tu ti fai i fatti tuoi nella tua missione non è che devi fondare un SRL da 4 milioni di euro di capitale dividere 12 quote a 20 soci con 3 lauree no sei tu che decidi di partire quindi se tu sei tra questi allora hai più possibilità di entrare nel 4% pennarello grosso non mi piaceva grosso allora 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 è sempre più brutto sto disegno vabbè comunque hai capito il concetto l'importante è arrivare qua una volta che arrivi qua e vedi il sole il sole vede te allora non hai più bisogno di questo di questo messaggio torniamo indietro perché io faccio schifo proprio a disegnare vediamo cosa ne dice la Martina Mangara grazie allora ragazzi noi Fabio ha fatto un esempio in questo disegno correndo veramente problematico ti do anche l'evidenziatore esatto esatto ma non voglio evidenziare niente ok e giustamente dice tu sei questo puoi andare su però sei il supporto di qualcuno nel nostro caso di una community guardate che non è che torniamo indietro perché siamo cattivi o perché non siamo abbastanza preparati tornare indietro nel sistema in cui ci formano è la normalità il sistema è ok non è uno schifo il sistema il sistema è un sistema che aveva in mano è un sistema che ci porta a fare quello che ci dice il sistema un facilitatore esatto cioè delle regole che insomma non sempre ci possono piacere ecco quindi non è che torniamo indietro perché non siamo abbastanza bravi ma perché perché semplicemente il sistema ci accomoda accompagna ci fa sentire esatto ci fa sentire comodi nel tornare indietro quindi in realtà quando noi torniamo indietro stiamo facendo quello che è normale io vorrei dire una cosa quello che è normale cioè è comune in realtà ma non significa che sia normale quindi è comune il fatto di provare a fare un qualcosa e di tornare indietro perché magari ci sentiamo soli questo non significa che sia normale quindi sta a noi dobbiamo essere noi quelli che ci prendiamo la nostra responsabilità e diciamo non siamo soli cerchiamo persone come noi e andiamo avanti e sostanzialmente facciamo azione per non tornare indietro quindi questo è importantissimo e le percentuali di Fabio guardate che sono molto veritiere vi sembrano esagerate perché ovviamente il 96% è una percentuale altissima credetemi che il 4% di gente che ce la fa forse è anche tanto forse anche tanto e creare una community o comunque lavorare all'interno di una community è fondamentale nel momento in cui una persona vuole diventare un imprenditore perché tutto parte da qua ormai lo sappiamo tutti e l'appoggio di altre persone è fondamentale nel nostro percorso di imprenditoria diciamo così devastante allora visto che tu sei vicino ai pulsanti dietro prova a cliccare il pulsante più in alto dietro nella lavagna dietro nuovo indovinello se magari vedi ok dice un pulsante quello alto si prova ok basta puoi tornare qua grazie allora quindi questo messaggio in realtà ci ho messo quanto ci ho messo a evidenziare cioè a concretizzarlo ci abbiamo messo aspetta che devo chiudere il live mi sono nel live dentro il live è qua è qua scusate ero nel live nel live dentro il live allora ragazzi per questa ragione quando il messaggio è chiaro quando il messaggio è concreto ed è capito perché se non lo capisci allora non serve una mazza a fare i predicatori se non fai capire quello che dici è stato creato questo gruppo cioè questo questo è un sito web ok cosa ne pensi del sito web tu Marti cioè quando entri qua cosa pensi cioè dimmi proprio che fa anche cioè dimmi dimmi i tuoi feedback ma a parte che immagini che scorrono sotto dell'evento per me sono devastanti perché mi ricordano un evento incredibile e poi il rosso raga il rosso è il colore dell'azione no noi abbiamo scelto questo colore perché perché a noi ci piace tantissimo l'azione in realtà no quindi del movimento del non mollare mai in realtà perché uno che non molla mai cos'è che fa concretamente è una persona che fa azione è una persona che non dorme che non sta ferma ma guardate che neanche fisicamente quindi è il colore dell'energia io penso che sia abbastanza anche semplice no sia abbastanza marketing genius no mi sembra abbastanza semplice fateci sapere cosa pensate di di questo sito le storie vere ovviamente queste sono storie di due tre quattro o raga percentuale di donne in netto e imbarazzante aumento no Maria Salerno Alessandra Massimo chi sono gli all-inners vediamo un po' non so se vedete lo schermo sì ora meglio allora il sito dice che gli all-inners è la cultura del non mollare mai come vi abbiamo detto e sono l'ossigeno di queste idee ovviamente come diciamo prima raga senza di voi questa cultura non potrebbe esistere ok molte persone nascondono la loro storia la loro battaglia che stanno combattendo o che hanno già vinto per paura di non essere abbastanza è vero questo è molto molto vero molte persone preferiscono non parlare preferiscono non condividere la loro storia di successo perché per quello che dicevo prima perché il sistema ci abitua a quello che è comune no ci ha creato un'idea di quello che è normale e quindi noi per rispettare questa idea a volte nascondiamo quelli che sono i nostri successi abbiamo pensato alla cultura del non mollare mai in realtà proprio come un mondo a sé ovviamente non una setta però sicuramente un mondo un po' diverso rispetto a quello che ci hanno sempre presentato fino a quando eravamo piccoli soprattutto come uno spazio in cui condividere queste cose infatti anche nel gruppo facebook noi l'abbiamo messo l'abbiamo inserito abbiamo messo tutte quelle cose che si possono fare in questo gruppo quindi prima su tutte è condividere condividete quello che quelli che sono i vostri successi quotidiani il fatto di essere caduti in una cosa e di esservi rialzati perché le persone all'interno della community hanno bisogno di queste hanno bisogno di voi hanno bisogno delle vostre prove della vostra storia per continuare anche loro ad essere diciamo a non mollare mai quindi a continuare su quest'onda siamo in tutto il mondo noi abbiamo gli all-inners sono in tutto il mondo allora vedete questi puntini non so se si vedono bene dal adesso Fabio mi farà uno zoom ecco vedete questi puntini ovviamente siamo in Italia principalmente però come tutti sapete abbiamo un team internazionale noi di Marketing Genius solamente noi parliamo 3-4 lingue quindi ci stiamo espandendo in tutto il mondo ovviamente cerchiamo prima di tutto di dare priorità a tutti quelli che sono i nostri all-inners italiani però come potete vedere siamo già in Spagna in paesi in cui si parla inglese quindi in realtà questa cultura non toccherà solamente le persone di origine italiana o che parlano in italiano ma si sta già espandendo in tutto il mondo e questo solamente in pochissimi mesi ok qua ci sono alla fine del sito già siamo mi sembra ci sono le le recensioni diciamo i commenti dei nostri all-inners Cristian Lombardo dice essere all-inners significa lottare per raggiungere i propri obiettivi e Laura Oggioni dice sono una all-inner perché voglio cambiare la mia vita voglio essere libera ecco poi ovviamente ogni persona dato che siamo tutti unici ha la propria idea dell'essere all-in e di essere di essere uno all-inner di essere all-in nella vita e di non e di non mollare mai noi facciamo sempre l'esempio dell'imprenditoria però ragazzi guardate che essere all-in e essere uno all-inner ed essere all-in come dicevo prima è uno stile di vita è una cultura è un qualcosa che io applico è uno stile di vita che io applico appunto nella mia vita quindi in generale quindi in tutti i settori della mia vita in tutte le parti della mia vita nello sport e nella mia famiglia è inutile che io rispondo di merda a mia madre e poi dico di essere uno all-inner è inutile che devo mi prometto prometto a me stessa io ne ho parlato anche con con le power women della della community e io ho sempre detto dico sempre a loro non promettete qualcosa se poi non riuscite a mantenere le vostre promesse questa è una parte importante della cultura dell'all-inner un all-inner è all-in e non mola mai in tutti i sensi ok in tutti i sensi in tutte le le parti della vita quindi questa è la parte finale del sito ah no ce n'è ancora un po' scendi giù scendi giù scendi giù scendi giù vabbè raga abbiamo un botto di commenti andatemi a vedere cosa significa facebook ecco allora qua abbiamo il gruppo facebook ve lo presenterà fabio disumano sono sparito perché era era veramente devastante questa presentazione migliore di quella che avrei potuto fare io allora questo gruppo facebook poteva nascere a settembre 2017 sì però non era pronto il messaggio cioè io come diciamo persona che segue il progetto marketing genius a livello visionario avevo già l'idea e volevo capire il perché la gente rifiutasse di studiare e di imparare uno strumento strumenti di marketing digitale che diciamoci la verità anche a me fanno schifo ok non è che tutto quello che impari ti deve piacere ti deve anche fare schifo però se ti salva il futuro e ti salva il business e ti salva l'azienda e non licenzi dieci persone e ti metti in proprio cambi la tua vita hai più tempo per la famiglia allora lo devi fare però non era abbastanza per questa ragione ieri è partito il gruppo il gruppo che è la cosa più importante perché al di là del fatto che tu studi come i pazzi non puoi essere da solo è come se facevi l'università da solo se avessi fatto il liceo da solo da sola avresti mollato dopo un giorno avresti detto immagina tutti i giorni andare e sederti cinque ore da solo o da sola cioè è un incubo per quanti anni 15-20 la gente tutti noi abbiamo studiato un sacco e però stando con gli altri abbiamo dei bei ricordi belli brutti anche me tiravano la bicicletta nel pattume quando ero alle medie poi sono diventato due metri quindi mi stavano alla larga questa è un'altra storia però quello che ti voglio dire è che la condivisione è la cosa più importante quello che ho visto e che ci stavamo rendendo conto è che la condivisione dentro un gruppo dove si parla di roba tecnica non c'è perché tu non ti senti abbastanza per dire ho fatto questo errore piuttosto che ho fatto quest'altro errore allora abbiamo deciso di dare più sfogo alle storie delle persone del perché stanno studiando digital marketing perché una 45enne con tre figli sta studiando marketing digitale e il perché che è affascinante non è il sta facendo successo o no l'importante è essere su quella salita che ti ho fatto vedere prima quindi come vedi ho appena aperto la pagina ci sono cioè un minuto fa ci sono 20 persone in attesa vuol dire che c'è bisogno di condivisione ok quindi adesso io li accetto tutti di default poi se c'è qualche infiltrato che mette qualche bomba a mano nel gruppo lo banno a vita ma non c'è problema anche perché non sono l'unico amministratore questa è l'isola felice di chi è nel percorso di creare qualcosa anche se puoi imparare a cucinare sei uno l'inner l'importante è che condividi questo sclero perché uno sclero fare tutto che poi dopo lo monetizzi è comunque il nostro messaggio cioè non puoi fare la roba per passione per hobby senza fare una lira quello te lo vieto anzi se il tuo piano è creare un hobby non sei nel posto giusto poi cosa succede che ci sono sei post in 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 approvazione vediamo cosa succede in questo gruppo in questo gruppo c'è Massimo Padula che è uno che ha cambiato la sua vita in modo radicale l'ultimo inverno che dice tutto ciò che stiamo ascoltando non ha valore sta partecipando a un meeting che c'è a Roma adesso gente Antonio Germano Antonio io non so qual è la storia di Antonio finché Antonio non me la dice ma perché poi se Antonio lancia un prodotto che riflette la sua storia glielo compro perché so che Antonio lo fa perché lo deve fare perché lo sente di fare tu non compri prodotti a persone di cui non conosci la ragione per cui lo vendono se io adesso mi vendo vendere metto vendere cosa mi metto a vendere pantaloni pantaloni gallerani suona da cani magari meglio olio gallerani pantaloni gallerani una bella gicua te li compri no perché perché gallerani fai pantaloni cioè devi sapere che quello che sta arrivando sul mercato ha senso se Steve Jobs non dicevano che era in un fottuto garage tu l'iPhone non te lo compravi perché anche tu ti senti diverso in un certo senso la gente che compra l'iPhone e comunque si compra insomma che è nella Apple è diversa e quindi è un movimento quello lì non è una marca cioè la Apple non è una marca sei d'accordo tu ce l'hai tu ce l'hai tu ce l'hai tu c'è il MacBook no e il telefono però lei non è una vera una vera cioè di quelle connesse con la cultura Apple vabbè allora proviamo la storia di Antonio che dice sono Antonio 29 anni ha poco da laurea in senso di sanatorio un sogno di cassetto soltanto diventare un coach e personal trainer sai cosa succede Antonio che tu qui dentro condividi la tua scalata verso il tuo obiettivo ma secondo te qui dentro tra centinaia di persone non c'è qualcuno che ha la panza e ti vuole tirare i soldi e quindi essere in un gruppo di gente che non molla mai è ovvio che la forma fisica tra l'altro Antonio All Inners è un brand registrato basato sul fitness ok fitness se tu vai a vedere sul registro marchi europei All Inners è fitness accessori per la palestra e cultura e eventi per cui uno come te è nel posto giusto se tu inizi a vaneggiare da solo ti prendi male e la gente dice che fai schifo a fare il personal trainer probabile che lasci perdere invece io ti approvo il post e ti metto sulla salita grazie per avermi accettato però non è che accettiamo la gente qui siete tutti benvenuti qui non è benvenuto un depresso un triste un negativo perché scusate se ve lo ripeto perché sto delineando sempre di più il mio messaggio io sono il peggior nemico dei depressi cioè allora il messaggio del formatore è sempre quello ti aiuto ti abbraccio io non sono così tu cosa ne pensi passo la parola perché qui me ne vado allora raga se volete aiutare qualcuno di depresso vi faccio un esempio ok io ovviamente rispetto moltissimo le persone che stanno male che in questo momento sono in ospedale per esempio quindi ovviamente è un esempio molto drastico no? però credetemi che ovviamente a parte se si tratta di malattie ovviamente molto più gravi di cui ovviamente non parlo e non mi permetto di giudicare ovviamente se una persona si è rotta una gamba no? ed è in un ospedale credetemi che è depressa ok? però cosa possiamo fare noi per farla uscire da quella situazione di depressione? credetemi che la cosa migliore è rimanere a casa nostra farle una telefonata e dirle senti un po' recuperati in fretta perché ho voglia di vederti esci da lì invece se andiamo lì con i fiori cosa significa? qual è quel messaggio che le stiamo mandando? è rimani lì perché in questo modo ti coccolerò ancora di più quindi quello che dice Fabio è importantissimo noi non è che odiamo i depressi e allora li insultiamo no semplicemente quando noi vogliamo aiutare qualcuno semplicemente gli diamo un calcio lì ok? e il nostro calcio lì quindi la nostra scossa la nostra la nostra spinta principale riguarda soprattutto il fatto di prima di tutto non devi essere depresso perché c'è un detto che dice un detto che dice aiutati che Dio ti aiuta cosa significa? semplicemente significa che nessuno lo può fare per te quindi io non posso aiutare una persona che vive nella tristezza che poi ovviamente depressione ovviamente noi per depressione intendiamo proprio ci riferiamo a non avere quella spinta vitale che ci porta a creare di più ad avere più successo ad ottenere le cose che vogliamo e ad essere felici quindi la depressione per noi è il contrario della soddisfazione della felicità che nasce dalla soddisfazione quindi sicuramente lo step principale proviene da ognuno di noi e lo step principale deve per forza essere che noi abbiamo bisogno di noi stessi abbiamo bisogno di quello che è la nostra principale spinta vitale poi ovviamente tutto viene gli strumenti arrivano il gruppo di persone che ci sostiene in qualche modo e che in qualche modo sta facendo lo stesso percorso nostro arriva però quello che ha detto Fabio è fondamentale ragazzi quindi mi raccomando noi non è che odiamo i depressi o abbiamo voglia di insultare qualcuno no semplicemente stiamo cercando di creare una community di persone giuste per la finalità che noi sogniamo per voi e anche per noi in realtà perché questo guardate che è un processo vostro proprio di tutto nostro quindi io sono perfettamente d'accordo con d'accordo con Fabio e non so se volevi sì 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 io volevo dirvi una roba e proprio quello che hai detto alla fine è esatto in realtà noi ogni giorno noi e tutta la gente che lavora poi torno a me a Pittaluga che non è facile confermi bisogna bisogna essere abbastanza motivati noi siamo in questo processo in questo processo di spingere sempre più in alto perché come dico io e come dici anche tu e come dicono tutte le persone che comunque ce la fanno almeno una volta quando arrivi lassù dove c'era il sole osceno che ti ho fatto vedere quello brutto proprio quello che ho disegnato male lì dopo vedi il sole e dici cavolo che bello peccato che poi ti arriva un'altra montagna e dici oh ma lassù ci vede meglio il sole è come quando vai a vivere in un appartamento al terzo piano è bello poi vai a casa dell'amico che c'ha il loft al settimo piano e dici oh voglio andare al settimo piano e poi vai sul grattacielo di quello che ha e vai al ventesimo piano poi capisci che i veri billionaire vivono al cinquantesimo piano e quindi spingi sempre di più non so se è una malattia spingere sempre di più ma è comunque una cosa che è comune nelle persone che ce la fanno almeno una volta e cosa succede per queste persone perché una persona che ha successo deve condividere con gli altri lo deve fare perché se no perde tutto se tu non tendi la mano all'altro e te ne freghi degli altri torni indietro rotoli all'indietro con la testa in quella montagna che ho disegnato e per questa ragione che cosa è successo ma che giovaneggio ok allora allora in realtà io volevo parlare dell'evento volevo parlarvi dell'evento perché l'evento è importantissimo l'evento è il 28 bellissimo questa frase insieme verso la meta non so se si vedrà nello schermo si vede insieme verso la meta ragazzi allora cosa si parla all'evento l'Inners Conference e perché devi essere lì vabbè qui c'è scritto tutto quello che è ma te lo dico io allora All'Inners Conference è motivazione allora quando tu capisci che ce la puoi fare in qualsiasi cosa anche se il tuo progetto è andare su su Giove devi iniziare con la con la credenza che puoi far cioè anche perché Elon Musk che è quello che ha creato Paypal la Tesla e tutte le robe assurde che vedi nel mondo quando ha detto andiamo su Marte cioè ci credeva di brutto perché se no anche se è lui lo mandano a quel paese cosa avresti detto se 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 Matteo Pittaluga ti avesse detto andiamo su Marte va bene ok io gli avrei detto che è un pirla perché perché dipende da come dici le cose perché non ci avrebbe mai creduto veramente ma poi soprattutto perché noi allora se Matteo Pittaluga ti dice andiamo su Marte quello che lui intende semplicemente è non ci sono limiti come diceva Fabio prima una persona che vive al settimo piano che ovviamente è un esempio vuole vivere al piano sempre superiore no perché perché non accetta quello che c'è quello che c'è alla base quindi quello che sta sotto quindi in realtà ovviamente l'avrei mandato a quel paese però il senso è quello sempre di poter crescere di più esatto 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 allora quindi gli eventi troppo tecnici rompono i coglioni sei d'accordo? commenta fammi sapere sei mai stato a una di quelle conferenze in cui l'età media è 74 anni di quell'esperto o hai mai pensato che quando studiavi all'università perché il professore ha 87 anni ed è ancora lì che ti insegna roba di 140 anni fa perché in qualche modo è lì insomma non chiediamoci il perché in ogni caso ti sei rotto in bocca cioè a quel punto dicevi che palle ma io voglio andarmi a fare un party voglio voglio conoscere la gente voglio capire il senso di quello che mi insegni per questa ragione in questo evento si parla di motivazione e strumenti pratici in realtà la motivazione te la danno le persone che sono nell'evento perché se tu sei circondato di gente positiva che è in salita e si pompa vicenda è ovvio che sei carico se invece vai a un evento in cui non è detto che siano tutti positivi anzi la maggior parte della gente che va a studiare a eventi pallosi in cui sono lì che prendono gli appunti e gente che triste tu cosa ne pensi in realtà non è triste ma l'ambiente la rende la smorza invece di di estrarre il loro la loro la loro motivazione per questo mentre scorro giù passo il microfono a Martina che non so cosa dirà allora secondo me sì sono eventi più tristi ovviamente non parliamo male degli altri eventi però questo è per sottolineare che cosa in realtà quello che dicevamo un po' prima le persone in realtà partecipano a molti eventi di formazione per esattamente come un drogato scusate l'esempio anche lì forte però mi piace sempre fare esempi forti perché sono quelli che arrivano di più e rimangono di più nella nostra memoria vi dicevo esattamente come un drogato che ha bisogno della sua dose e poi basta quindi in realtà quello che noi stiamo creando nel programma degli eventi di Marketing Genius è sicuramente una situazione un'esperienza di grande valore che però porti le persone non solamente ad avere quella scarica di adrenalina momentanea ma che gli dia degli strumenti ora per strumenti noi non intendiamo solamente strumenti pratici in realtà perché per questo abbiamo chiamato questa conferenza o l'Inners Conference perché sicuramente quello che daremo è anche una consapevolezza diversa Fabio diceva prima va bene gli strumenti ma se noi non sappiamo il perché facciamo le cose se noi non sappiamo qual è veramente la nostra motivazione allora lì abbiamo strumenti pratici che non guardiamo non consideriamo abbiamo la scarica dell'adrenalina e domani quindi giorno dopo rispetto all'evento non facciamo più niente comunque non guardiamo i corsi e anzi torniamo indietro perché quello che volevo dirvi principalmente è proprio questo cioè che non possiamo stare fermi ci sono molti imprenditori o molte persone che magari fanno tanti soldi però poi si fermano e allora loro pensano di essersi fermati e dicono va bene così mi accontento così in realtà l'evoluzione non si ferma mai o torniamo indietro o continuiamo ad andare avanti quindi è questo quello che noi in realtà stiamo costruendo dare la possibilità a tutte le persone a quelle che partono da zero ma che già hanno un fuoco dentro che è lo stesso fuoco che avevamo noi quando abbiamo iniziato e dare a queste persone la possibilità appunto di non tornare indietro poi ovviamente io sono anche molto spirituale perché mi conosce lo sa quindi io credo che in realtà l'evoluzione non si fermi mai che in realtà non possiamo mai tornare indietro per tornare indietro mi riferisco al fatto che stagniamo in quello che facciamo quindi ci fermiamo troppo e quindi poi inevitabilmente non cresciamo e per me perdere tempo e non crescere significa tornare indietro quindi in questo senso è per me importante chiarire questo concetto quindi non so se Fabio voleva dire ancora qualcosa sta lì messaggiando con voi non so cosa sto casando una vi leggo una storia in diretta ciao sono Cristina ho 41 anni sono mamma e principalmente docente di lingue sono stanca di non avere una stabilità economica a 41 anni pensa io ero stanco a 22 immaginati come ti capisco perso lavoro l'anno scorso ben pagato gratificante ho un network marketing per le mani con prodotti premium ma non riesco a fare carriera e sono stanco a ricevere porti in faccia da tutti che dicono che fortificano sì però basta c'era un pericoglione a gente che non gliene frega niente sono d'accordo con te perché io ero quello che dava il biglietto da visita al benzinaio e il benzinaio mi mandava a chiegare ma io voglio volare in alto e finalmente voglio sbloccarmi finalmente creare un futuro quindi Cristina è adatta a lavorare in una community del genere perché non ha detto cioè tutti ce l'hanno commesso 41 anni fanculo il sistema che triste la vita no è lì che vuole cambiare la sua vita quindi Cristina sarà la benvenuta all'Allenners Conference come tutte le persone che tu abbia un business da 100 euro al mese che tu abbia un business da 3 milioni al mese è che dentro Marketing Genius e dentro questo movimento c'è gente che fa 3 milioni al mese di fatturato ma li vedi ultra umili in mezzo alla gente ed è questo il bello perché tutti siamo imprenditori e più va avanti la società più tu devi diventare imprenditore di te stesso o sarai sbattuto fuori dall'economia si perdiranno esatto non importa dove ti ha non è che devi fare la scuola di business 13.000 master perché poi il curriculum lo legge un robot se tu non porti il tuo talento al servizio di qualcuno o qualche progetto come Martina è entrato in Marketing Genius dalle retrovie e poi quando una persona ha l'energia e vuole spingere quel progetto di là allora si trova il suo spazio ed è per questo che è qui adesso se no se era una persona che mi mandava il curriculum triste allora sarebbe ancora là dietro la scrivania triste senza voce in capitolo ok quindi è importante che tu venga all'Eoliner's Conference di cosa si parlerà beh ci sono esperti di marketing digitale il programma definito lo stiamo delineando chiudiamo allora non so se riesci a rispingere quel tasto che hai spinto prima in maniera magica sempre un tasto che sembra che scompaia eccolo tasto che è risparito non so cosa succederà adesso non l'ho mai rispinto in realtà dovrebbe eccola il mio disegno è epico allora ragazzi vi lascio andare a pranzare a cena a pranzare sì alle 8 di sera magari siete dei DJ e pranzate alle 8 di sera allora vi scrivo qua sotto il sito dove qual è cosa è questa allora vediamo se ce la faccio sembra un alfabeto aspetta un attimo ho avuto un attimo che non ce la potevo fare aspetta questo qua bisogna bisogna cancellarlo in modo diverso allora ragazzi in poche parole ci vediamo all'internet conference 28, 29 e 30 settembre cercherò di scrivere qua il sito non va niente ah guarda come faccio guarda questo qua funziona sempre eccola eccola grazie mi è appena cancellato l'immagine adesso non potrò mai più rimetterla che bello invece faccio così ritorno a sé allora vediamo se ce la faccio perché io a scrivere veramente allora www. sembra che ce la faccio conferenze diciamo che è un po' demente questa scrivo di merda si hai ragione infatti la jamboard pensa che insomma ragazzi ve lo scrivo con è stato un esperimento veramente triste guarda fa su un clearboard perché bisogna scriverlo in grande il link è conferenze punto allinners punto com ovviamente allinners con due l e due l ok www.conferenceconference punto allinners con doppia l e doppia n punto com non ci sto quando mi fanno scrivere è finita guarda guarda è veramente scritto da cani grazie per aver visto come scrivo in ogni modo se se non capisci come scrivo ascolta perché penso che le orecchie siano ancora a tua disposizione conference punto allinners punto com un grande saluto a tutte le persone che sono al nostro allinners local a Roma in questo momento c'è un meeting di svariate decine di persone a Roma che stanno a contatto con persone che insomma gli ospiti segreti non posso dirti chi sono se non sei ancora arrivato in location grazie per essere stata qua con me marty sei molto più brava di me a parlare in pubblico penso che dopo questo live la mia carriera sia finita e quindi mi vedrete dietro le quinte presente quello che accende la telecamera comunque cercherò di rubare il lavoro a thomas il nostro art director la persona che rende questo live possibile penso che ho mollato quindi non sono più uno linner ma in realtà è una gran balla quindi ti aspetto in questo movimento di gente che non molla mai davvero l'abbiamo creato per te è una visione che avevo da anni è partita da una storia struggente ci sono dottor andiamo a mangiare andiamo a cenare grazie Marti ti lascio il microfono un grande saluto a tutti grazie Fabio per avermi fatto partecipare è stato bellissimo presentare questa cosa raga ci sarebbe molto altro da dire in realtà però entrate mi raccomando nel gruppo facebook degli all-inners la cultura di chi non molla mai perché lì sì lì sì che vedrete veramente magie lì sì che veramente le vedrete allora le otto io vado live per tutte le power women nel gruppo posso fare questa pubblicità pubblicità qual è il tasto? il tasto abbiamo bisogno delle vallette ecco fatto sono io la valletta io faccio tutto raga sono un jolly allora vi invito alle otto nel gruppo delle power women ok MG power MG power woman andrò live non ci sono uomini io vado live dalla mia pagina in realtà poi condivido ma gli uomini sono molto rispettosi quando ci guardano perché noi li rispettiamo moltissimo quindi comunque la live la troverete nella mia pagina così come nel gruppo non so se si vede bene sì allora parleremo delle sette scuse di noi donne le sette scuse principali di noi donne per non fare per non muovere quella roba lì ok quindi mi raccomando adesso se facebook mi lascerà andare live andrò live normalmente se no dal dal mio smartphone quindi non vi preoccupate che comunque non vi abbandonerò quindi tutte le donne che non sono ancora entrate nel gruppo delle power women facciano accesso ora perché tra 15 minuti andiamo live andremo a vedere tutte quelle che sono le principali obiezioni delle donne in fatto di business nella vita e che poi sono anche le nostre perché vi garantisco che anche già persone donne molto esperte molto avanzate hanno bisogno di in qualche modo rivedere quelle che sono un po' le loro credenze che a volte noi ci diamo scuse anche se non ce ne rendiamo conto quindi incantata di aver presentato con Fabio questa l'evento la conference di noi all-inners e se Fabio vuole dire ancora qualcosa vi lascio grazie Marti direi che sei stata più forte sei stata la miglior presenter che abbiamo visto la vedremo sempre più spesso MGTV MGTV è la tv di gente che vuole vincere nella vita e a breve ci saranno nuovi show nuovi vaneggi vari quindi seguici perché c'è da ridere c'è da divertirsi c'è da conquistare il tuo progetto grazie per essere stato qui con noi ti auguriamo una grande serata ciao ciao ciao